È stata dedicata alla dottoressa Annalisa Luraschi, recentemente scomparsa, la sala incontri dell'oncologia al quarto piano. Un'intitolazione voluta dagli amici dell'oncologia all'oncoematologa, perché? Beh, Annalisa, io ho lavorato con lei tanti anni, quindi c'era una conoscenza profonda tra noi due. Annalisa ci è stata di grosso aiuto perché quando ha cessato l'attività e è andata in pensione, si è dedicata a svolgere per noi le visite oncoematologiche in ospedale gratuitamente, naturalmente. Quindi il minimo che potessimo fare era doveroso dedicare a lei qualche cosa. Questo è un ambiente dove viene gran parte della nostra attività, perché qui si incontrano i pazienti con la psico-oncologa, qui sono stati fatti gli incontri di educazione terapeutica, qui avviene la serie di incontri di preparazione del personale di assistenza che noi diamo nei reparti, cioè dei volontari. Quindi sono i locali che sono il nostro cuore di attività dell'associazione. Quindi giustamente andavano dedicati a lei. Voi avete subito accettato la proposta degli amici dell'oncologia? Sì, anche perché io ho avuto il piacere di conoscere la dottoressa Luraschi, anche se non è molto che sono qua in un anno e mezzo. L'ho ancora incontrata a una cena proprio degli amici dell'oncologia, per cui ho avuto anch'io direttamente la possibilità di apprezzare la sua umanità e professionalità, anche se sicuramente era in un periodo già in cui sicuramente soffriva. Però ho notato queste caratteristiche umane, forti e anche professionali. Per cui lo faccio con molto piacere, come azienda lo facciamo con molto piacere. La dottoressa Luraschi, sua moglie è mancata lo scorso 3 giugno. Le fa piacere questo ricordo? Questo ricordo mi fa molto molto piacere perché significa che mia moglie ha dato tanto per la nostra ASL e per il lavoro che ha fatto durante tutta la sua carriera, tutta la sua carriera professionale. La riconoscenza che oggi le viene tributata non può che farmi un enorme piacere. Ovviamente c'è un po' di commozione, ma sono sicuro che per tutti questo è un bellissimo momento.